Posso disturbare mentre gusta questa cioccolata calda? Sì. Da dove arrivate? Da vicino Roma. Perché Arezzo? Perché avete scelto proprio Arezzo? Perché abbiamo sempre saputo che ci sono dei bei mercatini e volevamo venire a visitarli. Un giorno dalla mattina alla sera o qualche giorno in più? Sabato e domenica. Arezzo si mette il suo vestito più bello per le feste. È una città davvero presa d'assalto. In questo ponte dell'Immacolata sono tantissimi i visitatori e ci sono code in entrata anche al casello dell'autosole. Insomma, quello che era nelle previsioni è stato perfettamente rispettato. Era annunciato il tutto esaurito con il 99% dei posti letto occupati e così è stato. C'è solo qualche buco in provincia ma almeno a 15 chilometri di distanza da Arezzo se non oltre. Questi turisti arrivano da Tivoli e hanno dormito a Bettolle. In un bed and breakfast a Bettolle. Sì, Siena. Perché avete scelto di trascorrere questi giorni qua ad Arezzo? Per passaparola. Hanno detto che erano belli i mercatini e siamo venuti. Alle 10 del mattino il casello arettino dell'autostrada era già intasato. Sono arrivati in auto, in pullman e tantissimi in camper. Tanti coloro che hanno sfruttato la navetta gratuita che da via Spallanzani ha fatto la spola con il centro storico. La Bologna. Vedo che già ci si goda una bella merenda. Ad Arezzo perché? Per i mercatini, per curiosità, per i mercatini. Siete già stati? È la prima volta? È la prima volta. E tutti ad attendere il calar della sera quando la magia del Natale risplende in ogni angolo della città etrusca. È il terzo anno che veniamo, adoriamo questi mercatini di Natale, sono bellissimi. Arezzo è la cornice perfetta per questi mercatini, veramente. Cioè è una chicca alla città e quindi torniamo ogni anno con piacere e in più ha proprio dei mercatini molto belli. Feliz Navidad. Feliz Navidad.